Musica Mercoledì 20 dicembre, buongiorno, 20, 12 dicembre. Non so che tu vuoi arrivare al Natale prima di te, ho capito, ma sai, ancora un po' di pazienza. Saluto subito il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cutica di Revigliasco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, tutti i nostri. Senta l'altra volta ci ha portato bene, abbiamo iniziato la trasmissione facendo un tiro dalla nostra sigaretta elettronica. Vada. Va bene. Ecco. Io faccio più fumo di lei. Lei fa più fumo, sì. Meglio che lei ne faccia meno. Io faccio più arrosto, va bene. Allora, 0131 23 10 92 il nostro numero di telefono. Come sempre, una detta stampa del sindaco riceverà le vostre telefonate, che poi il sindaco vaglierà, e risponderà la prossima volta a quello che sono le vostre segnalazioni. Noi invece abbiamo tanti argomenti di cui parlare, sicuramente in primo piano il Natale, perché devo dire che erano tanti anni che la città non era così illuminata, così vivace, così musicale, e sicuramente si avverte molto l'atmosfera di un Natale che si era un po' persa. Guarda, anzitutto grazie dell'invito, mi fa piacere essere qua e poter fare due chiacchiere con te e con i nobilissimi telespettatori. E' vero, che cosa rappresenta una città nel periodo natalizio, prenatalizio? Rappresenta il fatto che vorrebbe in qualche modo creare il miglior clima caldo, accogliente per coloro che nella città ci abitano e per coloro che nella città si riversano nel periodo natalizio, per motivi e così, di carattere, di incontri, di acquisti, shopping e così via. L'esperimento è riuscito, mi sembra di sì, è riuscito abbastanza bene, direi, si è fatto un lavoro corale dove tutti hanno fatto quello che dovevano fare. La città è illuminata, sì, la città è illuminata. Ed è illuminata anche in periferia, vorrei sottolineare. Esatto, esatto, non solo il centro, è vero e mi piace che tu dia anche insonorizzata, nel senso che quest'anno si è voluto fare questa operazione di inserimento di un sistema di diffusori con della musica di sottofondo, cosa che esiste in altre città, sono stato a Genova pochi giorni fa, c'è tutto questo sistema, anche noi abbiamo iniziato questo percorso, mi sembra anche in modo molto intelligente, la cosa funziona bene. Quindi è una città che vuole esprimere tutto il suo calore, la sua accoglienza attraverso le luci, i colori, luci di impianto, luci sceniche se vogliamo e anche attraverso quella che è la sonorità, un sottofondo musicale che male non fa. Ma è certo, allora sicuramente il Natale è il periodo più bello per i bambini, non solo, è perché lo è anche per noi grandi, però insomma per i bambini sicuramente il Natale è la festa principe. Ci sono due cassette delle lettere che sono state messe in piazzetta della Lega, il 22 arriverà Babbo Natale in persona con il suo grande sacco per ritirare queste letterine, è vero? Ma sì, anche questo mi sembra una cosa carina, dedicato ovviamente ai più piccini, ma da tempi remoti che Natale si configura come il momento in cui i più giovani, i bimbi, scrivono le loro letterine, i loro desideri, desiderata, oggi di chiamare a Babbo Natale. E' vero che ognuno magari ce lo fa privatamente, voglio dire ogni famiglia si costruisce questo evento, mi sembra bello che anche in qualche modo la città ne sia un po' partecipe, ecco con questo sistema delle buche dovevano mettere loro desiderata, e questo Babbo Natale che arriverà nella data che hai citato e che raccoglierà i desiderati. Insomma anche questo è stato fatto per creare maggior calore della città. Ma attenzione, non voglio assumermi meriti incondizionati, si tratta di un insieme di elementi che si sono potuti fare perché tutta la comunità alessandrina, le sue espressioni più diverse, gli operatori economici in primis, hanno comunque aderito, hanno voluto fortemente dare un'immagine della città, dare un'immagine della città che non è la città piagnona, lamentona, ma che è una città che quando vuole sa darsi il colpo di Reni e sa presentare il meglio di se stessa. Certo, pensi che un paio di anni fa a Torino, a Porta Nuova, c'era un grandissimo albero di Natale dove tutti andavano a mettere i bigliettini con il loro desiderata. Un pomeriggio, ne stavo leggendo alcuni, in uno c'era scritto, caro babbo Natale, fai scegliere al mio fidanzato l'università di chirurgia plastica, almeno quando si laurea mi rifa le tente. Perfetto, anche questo è un desiderio. Anche quello è un desiderio. Sì, meno infantile di quelli che... Sicuramente, però continuando invece a parlare di adulti, siccome lei ha in mano un volume dove c'è scritto che la cultura, con la cultura non si mangia, bang, il bollino rosso, falso, Natale ad Alessandria invece è anche cultura, c'è l'imminente inaugurazione di una mostra meravigliosa, ce ne parli lei. Facciamo vedere. Non l'ho scritto io il libro, perché di solito magari chi va in trasmissione arriva con un libro e perché è l'autore del libro e si fa un po' di marchetti insomma. È certo. No, no, non l'ho scritto io assolutamente, è l'occasione questa. E infatti con la cultura non si mangia falso. Viene presentato questo libro sabato presso la Biblioteca Civica, scritto dalla professoressa Paola Dubini che insegna alla Bocconi Milano Management ed è interessante perché è proprio tratta il tema del rapporto tra cultura ed economia, partendo da un falso mito o meglio da uno degli elementi, con la cultura non si mangia. Cosa che si dice, che sentiamo anche dire all'interno delle nostre strutture, quando magari stai mettendo in piedi un bilancio, devi fare delle cose, con la cultura non si mangia. E quindi si taglia lì. Ecco, che per carità è un mito, un falso mito, tant'è che lei ha aggiunto la scritta falso perché non è così, nel senso che anche la cultura e soprattutto in un paese come l'Italia può essere un grande motore economico. In questo senso, in questa direzione va appunto questa importante mostra che è stata allestita presso le sale di Palazzo del Monferrato, dedicata alla scultura linea. che voi direte, ma che cavolo è la scultura linea? È la scultura in legno, non quella che fanno in Val d'Aosta o in Tirolo, ma la scultura linea, le sculture in legno, realizzate con grande meticolosità, passione e bravura, capacità tecnica, intelligenza artistica, dagli artisti che operavano proprio in Alessandria e sul territorio alessandrino tra la fine del quindicesimo secolo, cioè fine del quattrocento e i primi anni del secolo successivo, in un'epoca di transizione tra il periodo tardo-gotico e quello già rinascimentale. Voi direte, cosa ci può essere all'Alessandria? No, all'Alessandria c'era delle fiorenti botteghe che realizzavano delle vere e proprie opere d'arte, che magari sono, non dico nascoste, ma vivono nell'indifferenza generale, perché alcune magari sono in oratorio, alcune sono in musei, altre sono in chiese, però non vengono in qualche modo valorizzate per quello che sono. La mostra che è stata organizzata in occasione degli 850 anni di Alessandria, grazie alla munificenza di tanti enti e con l'aspetto promotore giocato tra la Camera di Commercio e il Comune di Alessandria, vuole proprio presentare a un vasto pubblico, che non è solo quello di Alessandria, ma quindi Alessandria che viene da un po' l'attrazione, quella che è stata una fiorentissima produzione, grazie allo studio fatto dai simi e valenti studiosi, la mostra è curata da Fulvio Cervini, che è un docente di, credo, storia dell'arte medievale presso l'Università di Firenze, e quindi dimostra anche un'attenzione alla nostra produzione artistica attraverso dei personaggi che sono studiosi di questo, e che ci vengono a spiegare come quest'area abbia un patrimonio veramente importante. I pezzi, i reperti, le opere vengono non solo da Alessandria, ma anche da un contesto più vasto, da musei importanti, addirittura alcuni pezzi arrivano da Roma, perché nell'andare dei tempi, cosa è successo? Che nelle dispersioni, nelle soppressioni, alcune importanti opere siano finite presso collezioni private, poi magari a loro volta vendute in musei, quindi anche un modo poi per riscoprire un po' una rete di dispersione che è venuta sul territorio, oggi invece si ha l'occasione di raccogliere in un unico ambiente, tra l'altro con un allestimento molto suggestivo, tutto questo patrimonio poterlo restituire per un periodo che va da il 14, che è l'inaugurazione, di dicembre, sino al mese di maggio dell'anno successivo, proprio per dare ampio respiro e la possibilità a tanti di poterlo visitare. Visitare la mostra sì, ma visitare anche gli spazi correlati a questa mostra, cioè se alcune sculture importanti sono nelle chiese alessandrine, sarà reso possibile, grazie all'aiuto di tanti, che non sto a citare perché poi dimentico qualcuno, poterà anche avere delle visite guidate, queste visite saranno con le chiese aperte, alcune sono nei nostri, nelle nostre collezioni museali, e quindi sarà l'occasione di vedere quelli che sono i luoghi della conservazione ad Alessandria, che conservano alcune di queste opere. Però ribadisco, il fatto di averle messe tutte insieme in un percorso cronologico, artistico, che spiega come si passi da un'espressività fine, tardogotica, sino a esiti già rinascimentali che risentono di un leonardismo diffuso, credo che sia un'occasione davvero da non perdere. Lo sa che io l'ascolterei per delle ore quando parla di cultura. Io la ringrazio, non so i nostri pazienti telescoltatori che se devono sentire sottoscritto raccontare queste cose. Tra l'altro, con la cultura non si mangia, ma io penso che la vita sia una forma di cultura, tutto quello che facciamo noi è cultura, no? C'è la buona cultura, c'è la cattiva cultura, però la vita è cultura. La vita è cultura e dovremmo fare, e vi assicuro che non è il mio intendimento farlo, una seduta a televisione di tre giorni per spiegare che cos'è, perché prima di tutto bisogna partire da capire che cos'è la cultura. Ma lei riesce a dircelo in un minuto? Sì, che bravo. La cultura è tante cose, certamente che rappresenta comunque la sintesi del modo di vedere, del modo di pensare, del modo di operare di una comunità, di una collettività. Quindi in qualche modo riassume il senso di una collettività. In un certo periodo storico è visto invece in un periodo storico più vasto, rappresenta quella stessa, come dire, modo di essere, di operare e di sentire che ha avuto la nostra realtà italica, se posso parlare in senso generale, nel trascorrere dei secoli. Cioè, è vero, è fatta di momenti diversi, di diverse espressioni, però la cultura è questo, cioè è quello che certamente si legge su un libro, ma è anche un'opera d'arte, una scultura, un dipinto, un brano musicale, perché no? Perché no? Ma anche moderno, rappresenta comunque la cultura di un periodo. Alla fine, la cultura, secondo me, non è qualcosa di così pesante, astratto, che bisogna stare sui banchi di scuola per impararla. No, no, è una questione che si vive nella nostra quotidianità. Il tema, casomai, è quanto ognuno di noi è disponibile a affacciarsi e in qualche modo interfacciarsi con quello che abbiamo di fronte. In molti casi le cose le abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni, giorno per giorno, tutte le ore, ma essendo lì davanti agli occhi a tutti noi, sia nella frequentazione di un edificio religioso per delle funzioni, sia nel fatto di passare per una piazza, per le vie della città dove ci sono dei palazzi, essendo lì tutti i giorni, noi non li vediamo. Cioè sappiamo che ci sono, ma non usiamo un minuto in più per tentare di comprendere la valenza artistica, la sua bellezza o la valenza storica. Questa è la cultura che non è necessaria. Certo, il banco di scuola sono straordinariamente importanti, meno di istituzione e fondamentale, ma è una predisposizione d'animo, innanzitutto. Una predisposizione nel saper vedere, non perché gli altri ti hanno detto che deve essere visto, ma deve avere quella molla interna, quella sensibilità, che ti porta a soffermarti un minuto in più per dire ah ma com'è bella quella finestra, è fatta in un modo stupendo, oh ma che bel paramento murario, oh che bel portale, che belle colonne, che cos'è questo edificio, perché è così grande, perché è così importante. Ecco, allora lì parte quella che è la ricerca, quello che è il tentativo di capire perché è importante, allora lì scatta la passione per la storia. Però se non c'è quella fiammella che ti fa fermare un attimo per dire che cos'è questa cosa, ah ma com'è bella, perché è qui, difficilmente, se non c'è quella molla di curiosità, difficilmente c'è la molla dell'approfondimento. Allora a proposito di cultura, so che in Comune ci sono... Tramazzate al suolo tutto. Ma no, ma perché? No, no, no. Il sermone del sindaco per Natale? No. Ci sono stati dei lavori di restauro anche in Comune? Sì, ci sono dei lavori in atto che proseguiranno nei giorni, scusate, nei mesi a venire e un primo lotto, piccolo lotto, è stato fatto e in una delle stanze, del complesso di stanze che riguardano la segreteria del sindaco, sono stati riportati alla luce restaurati degli affreschi estremamente affascinanti, che sono della fine del 1800, il 1887, di questo pittore alessandrino, Pietro Sassi, che rappresentano una veduta a paesaggio continuo, senza in una volta, che ci rappresenta un bel paesaggio che da Torino arriva fino a Genova, passando per Alessandria. E quindi noi abbiamo una veduta straordinaria, inedita di Alessandria, che verrà presentata, diciamo così, restauri che verranno presentati al più presto, credi intorno al 20 di questo mese, almeno presentiamo questo primo lotto, io ne vado fiero a nome di tutta la nostra comunità, perché il recuperare comunque alla visibilità di tutti, il ridare la possibilità di capire, di vedere, di comprendere, restituire dignità agli ambienti della vita pubblica, del comune, che quella non è casa mia, questa è la casa di tutti, e quindi io ho il dovere di mettere in condizioni di sopravvivenza, di bellezza e di restauro ambienti che appartengono a tutti, e non al sottoscritto. Questo è un passaggio per me, per tutti noi, molto importante, ed è sintomo e segno di civiltà. Ecco, rimanendo proprio nella casa di tutti, vale a dire nel Palazzo Comunale, Palazzo Rosso, in tanti, forse tutti, auspicano e auspicavano il rifacimento della facciata, la rimessa a posto del tetto, e ci sono delle buone notizie anche qua, no? Sì, nel senso che abbiamo messo da parte di soldi, stiamo investendo e posso dire, abbiamo chiesto ovviamente agli istituti, alla Cassa di Depositi e Prestiti di poter intervenire con un mutuo, perché proprio in virtù del discorso che facevo prima, la dignità dell'ambiente pubblico è importante, il Palazzo Comunale è lo specchio della città, cioè non può essere scalcinato e a pezzi come se fossero venuti i bombardamenti tre giorni prima. Si comincerà dal tetto, è vero, il tetto del comune, la parte antica, va completamente rifatto, non ho nessuna remora a confessare che noi ci siamo trovati all'interno e ci pioveva in sala giunta, dove ci sono degli affreschi, pioveva dentro, bene, colpa di chi? Di tutti e di nessuno, evidentemente almeno sono 60 anni che non ci mettono male su questo tetto, e il risultato di non fare mai niente è che poi le cose degradano, benissimo, quindi verrà rimesso a posto tutto il tetto e abbiamo recuperato anche i fondi finalmente per realizzare un intervento decoroso sulla facciata del comune e poter ridare dignità a un palazzo che rappresenta tutti noi. e quindi anche una bella immagine per chi ad Alessandria viene come ospite, come turista, come appassionato, di vedere, perché uno dei palazzi che guardano i turisti, è il palazzo comunale interessante, con i tuoi tre orologi, la torretta, eccetera, e vedere questa cosa qua, a me piange il cuore. Quindi tutti stiamo lavorando, tutti, tutti, la città sta lavorando per ridare dignità a se stessa. Certamente non è un percorso da cinque minuti, ci vorrà del tempo, ma i presupposti sono ottimi, io credo fortemente in tutta questa operazione. Però ovviamente è rispettata la nuance di rosso del palazzo? Sì, allora, assolutamente sì. Perché tu c'è in giro anche, no, vabbè, anche qui, chissà di che colore lo fanno. Come sono nati il mito, la cultura non si mangia, era nato il mito, era nato il mito che il palazzo, che il colore, chiedo scusa, la tinteggiatura del palazzo comunale, in origine non fosse rossa. Poi secondo delle propensioni ideologiche, per alcuni era azzurro, per altri era verde e sono i meriti idiozie, perché da, diciamo così, dalla possibilità delle stratigrafie fatte, il colore originario era un colore simile a quello attuale, meno scuro, meno carico, meno avvinazzato, un pochettino più tenue. Quindi sicuramente quello che si farà è il recupero di una cromia che si è in sintonia con quella originaria senza comunque, come dire, stravolgere quella che è l'immagine attuale. L'immagine attuale. Cioè da lei l'ha menzionata più volte, la città di Genova, e sappiamo che proprio la città di Alessandria sta stringendo sempre di più contatti con il capoluogo Ligure. Allora, Genova ha avuto, io l'ho citata perché quando Alessandria è nata nel 1168 evidentemente, è nata, non lo dico perché lo so io, ma perché questo l'ha detto studiosi che ci hanno lavorato su questi temi storici, è nata ovviamente per interessi, anche per interessi di carattere economico, commerciale, sulle vie di transito, col nord Europa, attenzione, stesso discorso di oggi, per interessi di Genova e di Milano. Oggi, caso strano, la storia sta ripetendo se stessa, in una visione, diciamo, più, una visione diversa, che non è dovuta né al transito fluviale, né a quello dei carri tirati dai buoi, ma oggi è una visione più ampia, dedicata così al trasporto delle merci, alla logistica, e in questo senso devo dire che con Genova si stanno creando rapporti molto, molto interessanti, che ad oggi riguardano il tema, diciamo così, della rimessa in ordine e rimessa in produzione sana e consapevole di una struttura come quella di Aral, che si occupa della trasformazione dei rifiuti, attenzione, non dell'alloggiamento in discorso, ma della trasformazione. E quindi, primo atto. Secondo atto con Genova si stanno aprendo discorsi molto interessanti, che potrebbero avere delle ripercussioni importantissime sul piano economico sulla nostra città. Non vado oltre per scaramanzia, perché mi conoscete, a me non piace la politica degli annunci, mi piace più la politica di dire le cose quando le cose davvero partono. Però si sta lavorando molto su questo piano. Tornando al Natale, è vero che ha anche una sorpresina per gli alessandrini? Le sorprese sono tante, milioni di milioni come stelle di Granroni. Vabbè, scusate la componente... Vuol dire qualità. Esatto, questo ritorno al passato che non dispiace, il ritorno al passato pubblicitario dove furono fatte delle opere d'arte a livello di capacità di comunicazione. Grande carosello. Sì, stiamo in questo contesto ampio in cui Alessandria è assai illuminata, c'è la musica c'è il Natale in cui si inaugura una mostra importante, in cui i nostri musei sono visibili. Non potevamo non pensare ad approfittare di una situazione del genere per comunicare al pubblico un altro piccolo grande passo e che è qual è il patrimonio artistico che ha la città di Alessandria e le proprie collezioni? Ha un grande patrimonio artistico. Vorremmo iniziare a focalizzare anche se con poche opere qualche cosa che a noi è stato richiesto in mille occasioni italiane all'estero opera che abbiamo noi e che in questo momento sono proprietà del comune di Alessandria sono ad Alessandria ci terremmo a poterle esporre proprio in questo periodo. Poter dire visto che si va alle sale d'arte perché ci sono delle cose importanti che riguardano il tema della mostra sulla scultura ma se all'interno delle sale d'arte in una sorta di nicchia rivista, ricostruita e riallestita sempre con grande parsimonia per non buttare via i soldi riusciamo a dare ai nostri gentili interlocutori che verranno da Alessandria uno spazio dove si vedranno magari due importanti opere di un importante pittore non Alessandrino ma diciamo di area non voglio dire chi lo diremo tra poco bene daremo un altro come dire un'altra bella grande occasione per ribadire l'importanza del patrimonio artistico di Alessandria e quanto questo possa essere attrattivo di interesse per le persone e quindi produrre economia eh sì e parliamo anche di un artista con la A non maiuscola ma in corpo 72 credetemi signor sindaco abbiamo finito noi ci vediamo la prossima settimana il tempo è volato come sempre lei lo voleva fare di più perché allora già sarà il 20 dicembre però insomma anche noi con il nostro piccolo abbiamo fatto volare grazie per aver chiamato anche perché abbiamo sentito il telefono che squillava continuamente vi risponderemo ovviamente nei prossimi giorni buon lavoro buona settimana grazie grazie dell'ascolto è stato un grande piacere grazie ci vediamo mercoledì prossimo invece con voi ci vediamo domani adesso la linea alle notizie arrivederci grazie 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 grazie